Buongiorno ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale Yomokri. Stamattina siamo in partenza da Bellinzona, intanto Yomokri alle mie spalle sta togliendo il telo coprimoto perché stanotte è stata molto umida, quindi abbiamo voluto preservare la nostra sella. Siamo pronti a partire, oggi ci addentreremo nel cuore della Svizzera a vedere un lago meraviglioso, De Blausi, spero di averlo pronunciato correttamente, ma vedremo anche il Sustempass dove ci attendono circa due gradi, quindi andiamo. Next stop, lago Blausi. Fantasilandia, eccolo qua, guarda che cascata che c'è lì. Siamo arrivati nella zona di Interlaken, dove ci sono questi due specchi d'acqua con le montagne ad acero rosso che fanno da contorno, bellissimo ragazzi, questo è un altro posto pazzesco. Siamo nel cuore della Svizzera, Canton Berna. Ragazzi facciamo una capatina sulle sponne di questo lago perché è troppo bello e vediamo se riusciamo a trovare qualcosa per mangiare, visto che è mezzogiorno. Guarda che posto, che castello che c'è lì. Praticamente, a parte le case, cioè, questo posto è meraviglioso. Sì, ci sono delle isolette e lì c'è un castello, un promontorio, proprio una penisola che si tuffa nel lago, questa è una chiesetta, cos'è? Madonna che meraviglia. Guarda, le galline in balcone qua ci hanno, in terrazzo. Guarda, c'è ci sono le galline in terrazzo. Ma questo è il centro. Guarda, c'è ci sono le galline in balcone. Guarda, c'è ci sono le galline in balcone. ci troviamo a isentwald sul lago di interlaken diciamo che interlaken è il punto più famoso di questa zona è stupendo ragazzi giornata super colori eccezionali tra aceri rossi e questo turchese del lago cielo azzurro mangiamo e proseguiamo non mi chiede non mi chiede non 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 Mi riprendi le rughe per bene? Sei la bellezza nella bellezza, Veronica. Questa è la bandiera con l'orso del cantone Berna e questa è la meraviglia che c'è. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Pesce di lago in crosta di mandorle e pistacchio e il pesce di lago con il riso dell'ospedale per Veronica. Siamo nella regione di Giangfrau che è praticamente la montagna che ha il ghiacciaio più grande d'Europa, UNESCO. È uno dei ghiacciai più importanti rimasti perenni, che ovviamente si sta ritirando anch'esso, ma che è una superficie di veramente diversi chilometri quadrati. parte dal Grimsel e arriva fino alla zona di Grindelwald, in un'area tutta naturale, appunto patrimonio UNESCO. ci manca circa 45 km al lago di Blausee, adesso attraversiamo Interlaken. Continua, Fantasilandia, cioè questa è l'altra parte di lago. abbiamo superato interlago, abbiamo superato interlaken e sembra un mare qua, guardate che show ragazzi! siamo a Lacey Gem, Lacey Gem, che dir si voglia! bellissimo, è anche mosso! Lago Forza 4 ci stavamo chiedendo quale fosse il lago più grande d'Europa? io credo che sia o il Garda o il Lago di Costanza in Germania, non lo so però, me lo cercherò perché mi interessa. questo non è uno dei più grandi, però insomma ce n'è di acqua qua, le sponde si intravedono in fondo ma è grande, comunque molto grande, sembra un po' tipo Iseo. proseguiamo dritto e vediamo quanto manca perché dovremmo prendere una laterale, una valle che entra dentro il cuore della Svizzera per raggiungere questo posto bellissimo ragazzi! musica ok siamo usciti a Spiez e proseguiamo per Candertal ci inoltriamo nei boschi con questo foliage meraviglioso e di fronte a noi montagne con un ghiacciaio spaventoso, baciato dal sole che colpo d'occhio, bellissimo, bellissimo! musica qua a fianco a noi questa pista di aeromobili ultraleggeri con le mucche vicino alla pista c'è fotonico, fotonico, c'è guarda che piana, bellissimo! sì, guarda c'è il sole che ci acceca perché è proprio di taglio davanti ma che vallata anche questa meravigliosa, meravigliosa! questa sembra una valle molto agricola, è piena di fattorie e mucche al pascolo e adesso iniziamo a entrare all'ombra della valle ci si stringe e iniziamo a salire un pelo, ci dovremmo infilare lì in mezzo credo siamo arrivati, questo è Blauzi, 50 metri parcheggio, non so come funziona ma in moto credo di no, boh ah sì può essere, l'ingresso sì allora Blauzi, l'ingresso Veronica quant'è? 10 franchi 10 franchi, proprio franchi franchi andiamo adesso poi vi dico anche quanto c'è da camminare eh ritorno in salita ok siamo entrati, c'è il tornello, si fanno i biglietti nella cassa automatica e sì, ci si tuffa in questo bosco bellissimo guardate che magia si vede già? bellissimo bello? eh, l'alba già si vede ma non va a camminare altro che il tavolo c'è la spada, il teo bellissimo bellissimo bella Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vabbè ragazzi, 10 franchi li vale tutti, veramente li vale tutti. Grazie a 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 tutti. E iscrivetevi se vi fa piacere. Ciao. 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 Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti. Ciao.